Ogni colore, ogni gesto, ogni segno, ogni simbolo del quadro del Gesù Misericordioso contiene un preciso e profondo messaggio. In questa puntata esaminiamo il significato dello sguardo di Gesù. È molto importante sapere che i movimenti che facciamo con il corpo producono e trasmettono significati. Lo sguardo è la parte dell'essere umano più comunicativa, più trasmissiva e che consente una più intensa connessione. Lo sguardo è in un certo senso la password delle nostre relazioni. Gli occhi sono lo specchio dell'anima, nel senso che riflettono in maniera immediata le nostre emozioni, le nostre paure, le nostre sfumature emotive più intime. Dagli occhi di una persona possiamo dedurre a cosa è interessata, a cosa sta pensando, cosa attira la sua attenzione, ma anche ciò che desidera o intende fare. Come sono gli occhi di Gesù in questo dipinto? Che cosa rivela il suo sguardo? Gesù non spiega in modo chiaro a Santa Faustina il significato del suo sguardo, tuttavia in un'apparizione Gesù rivela alla mistica il mio sguardo da questa immagine è tale quale al mio sguardo della croce. Perciò lo sguardo di Gesù è uno sguardo di misericordia per ogni uomo, per ogni uomo che ha salvato sulla croce. Lo sguardo di Gesù manifesta la misericordia di Dio che nell'ora della sua morte ha sete della nostra salvezza. Gesù vuole con il suo sguardo attirarci a Lui. Guardiamolo negli occhi. Rimaniamo qualche istante a contemplare il suo sguardo. qualche istante e scopriamo che Gesù ci guarda sempre con amore, donandoci quel coraggio necessario di ritornare a Lui nel chiedere perdono per le nostre fragilità. Ecco, cosa è interessato Gesù? È interessato a noi. Dal suo sguardo comprendiamo il suo desiderio, la sua sete, la nostra salvezza. Nella prossima puntata approfondiamo il tema della veste, della veste bianca del Gesù misericordioso. Alla prossima. Gesù, confido in te. Gesù, confido in te. Gesù, confido in te.